La nostra Camera è attiva nel settore della formazione e nell'attività di ricerca per sviluppare mentalità imprenditoriale nei giovani. Penso che questa campagna promozionale sia molto importante perché c'è una necessità di sensibilizzare o di far conoscere questi programmi alle piccole e medie imprese che purtroppo ancora oggi non conoscono bene questa opportunità. Penso che le Camere di Commercio bilaterali come la nostra possano avere un ruolo importante avendo una conoscenza di due paesi e dunque sia del paese del tirocinante che del paese dell'azienda ospitante.